Ragazzi, allora, siccome molti di voi mi avete chiesto comunque di continuare questa serie, anche se il video sulle spagnoli è andato un po' male, vabbè, speriamo che questo vada meglio, vabbè, comunque, continuiamo quindi con questa serie, è l'ultimo video perché il prossimo riguarderà Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, ma nello stesso video perché sono le uniche due squadre, praticamente, della Bundesliga e della Ligue 1 che alla fine potrebbero competere con noi per la Champions League. Anche se, ripeto, noi partiamo molto sfavoriti, non rispetto a Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, rispetto ad altri, sì, però, comunque, partiamo. Allora, ho messo il Tottenham perché alcuni di voi mi hanno detto, inserisci il Tottenham perché comunque ha dei giocatori a centrocampo, ad esempio, più forti dei nostri. Io non l'avrei messo perché il Tottenham non è che abbia l'obiettivo di vincere la Champions League come ce l'hanno le altre che ho comunque elencato in questi giorni, quindi non l'avrei messo per quello, però ho ascoltato voi e l'ho messo comunque. Allora, acquisti e cessioni Tottenham, acquisti Ndombele, Sessegnon, Lo Celso e Clark Kent, totale acquisti 114 milioni. Cessioni Trippier, Jansen e Nkudu, totale cessioni 35 milioni. Saldo tra queste cessioni, meno 79 milioni, rientra nei paletti del fair play finanziario. La formazione probabile del Tottenham dovrebbe essere Loris, Peters, Vertonghen, Alderweireld e Rose e Ndombele Eriksen, 4-2-3-1 quindi, con Lucas, Delealli e Son dietro a Kane. Ah no, Kane si dice. Vabbè, allora, per quanto riguarda la formazione tipo del Tottenham è una buona formazione assolutamente, anche se comunque molti mi dicono ma delle Alli, delle Alli a me non piace. Cioè l'ho visto giocare, è un buon giocatore però è molto discontinuo, non lo so, non lo so, per me è più forte Sondi delle Alli, sinceramente, poi non lo so, vedremo. Poi vabbè, Kane è forte, è giovane, è forte, vabbè, per quanto riguarda soprattutto il mercato del Tottenham, calcolando che non è l'obiettivo vincere la Champions League per il Tottenham, è arrivare quarti per il Tottenham e andare più avanti possibile in Champions League, più avanti possibile in Champions League. Stamattina non sappiamo parlare, mi sono svegliato da poco ragazzi, scusate. Vabbè, comunque, il Tottenham, ok, per me, ha fatto un mercato molto intelligente, molto intelligente, anche se ha ceduto Trippier, però ha preso un Dombele, molto valido, centrocampista molto valido al fianco di Eriksen, molto buono il centrocampo del Tottenham, anche se a me non piace il 4-2-3-1, lo sapete benissimo, il centrocampo a due a me non piace. Però, calcolando un po' il tutto, per me, comunque, si è rinforzato il Tottenham. Un 7 per il mercato del Tottenham, secondo me, è giusto, calcolando l'obiettivo del Tottenham, che non è quello di vincere la Champions League, perché fosse quello, ovviamente il mercato è buono, ma non neanche sufficiente, se noi calcoliamo quello, ovviamente. Perché, comunque, bisogna vedere anche la panchina che ha il Tottenham, e non è all'altezza, ok, delle 2-3 competizioni che ha il Tottenham, appunto. Vabbè, poi, poi, acquisti e cessioni Liverpool, quindi, mercato del Tottenham 7, acquisti e cessioni del Liverpool. Dovevo partire, probabilmente, dal più peggiore al migliore, vabbè, ho fatto, vabbè, comunque, acquisti Liverpool. Vanderberg, Ings, Oio, Adrian, totale acquisti 1.900.000€, cessioni, Ings, Groic, Oio, Alberto Moreno, Storridge, Mignolet, Wilson e Avonivi, avonivi, vabbè, 500.000€, vabbè, totale cessioni 34.400.000€, saldo tra acquisti e cessioni, più 32.500.000€, ovviamente, rientra nel fronte finanziario. Formazione tipo del Liverpool, Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson. Al centrocampo, Henderson, Fabinho e Vinaldum, ok, in attacco, Salah, Firmino e Manet. Ripeto, il centrocampo loro, per me, è superiore al nostro, comunque, anche sui singoli, qualcuno non sarà d'accordo, bisognerebbe vedere, semplicemente, le partite del Liverpool per accorgersene. Vabbè, comunque, a parte questo, eh, ragazzi, è il Liverpool, ha vinto la Champions League, ok, ma è stato un mercato deludente. Poi, è vero che in Inghilterra il mercato lo fanno insieme all'allenatore, a differenza magari dell'Italia, o a differenza, soprattutto, della Juventus, perché magari l'Inter e Conte hanno fatto mercato in simbiosi. La Juventus ha fatto mercato per i cazzi suoi e non ascolta, cioè, ascolta poche volte l'allenatore, soprattutto per giocatori e per acquisti top. Ok, quindi, ho percezioni top, quindi, veramente, eh, la Juventus non va di pari passo con l'allenatore, per me questo è uno dei motivi per i quali abbiamo anche poche Champions League, perché bisognerebbe ascoltare di più l'allenatore. Simeone non è d'accordo con questa idea, perché la società deve fare la società e l'allenatore l'allenatore, però, di fatto, Simeone non ha vinto un cazzo. Vabbè, parlo, ovviamente, a livello europeo, perché, se non sbaglio, ha vinto una Liga Spagnola. Vabbè, comunque, a parte questo, allora, per quanto riguarda il Liverpool, per me, doveva fare, sicuramente, qualcosa di più. Anche il Liverpool a centrocampo, sicuramente, doveva prendere un top. Poi, ripeto, è Klopp, evidentemente, che ha, già all'inizio del mercato, se non sbaglio, aveva fatto questa conferenza stampa, che diceva, noi stiamo bene così, non ci serve nulla, nessuno, e va bene. È una scelta anche di Klopp, però, sulla carta, ragazzi, è un mercato da 5,5, perché, comunque, non si è rinforzato il Liverpool. Ok, non si è rinforzato. È campione d'Europa, ok, ma non ci si può adagiare sugli allori, perché, poi, si rischia di fare come altre squadre, che, adagiandosi, hanno preso delle bastonate, ok. È vero che Klopp fa dei meccanismi, il punto di forza, però, è altrettanto vero che il Liverpool aveva bisogno, comunque, di rinforzi. Rinforzi al centrocampo, siccome è anche un terzino sinistro al posto di Robertson, a mio avviso, perché è un buon terzino. Non ho mai detto che è un bidone, perché avevo fatto un posto qualche giorno fa, vedendo la partita di Liverpool. È un buon terzino, però, ha dei grossi limiti, anche, quindi, io, sinceramente, avrei preso un terzino sinistro al posto di Robertson e un centrocampista top. Poi, è normale, io penso che, comunque, quel tipo di allenatore come Klopp, ma anche come Sarri, non vogliano il centrocampista top, cioè quello che spicca più degli altri, perché, appunto, fanno della collettività al punto di forza, e non vogliono troppe individualità, soprattutto al centrocampo, che è il fulcro, appunto, del gioco. Perché, sennò, avresti troppi giocatori che prendono palle e fanno da soli, e queste cose qui. Quindi, sotto quell'aspetto, evidentemente, come ho detto quando è arrivato Sarri, Sarri e Klopp, secondo me, sono allenatori molto simili. Più Sarri e Klopp, appunto, di più rispetto a un Sarri guardiola, Perché, per me, Sarri ha più le caratteristiche simili a Klopp rispetto a guardiola. Ok? Comunque, il mercato del Liverpool, per me, è da 5,5. Passiamo al Manchester City. Allora, Rodri, Angelino, Stephen, Douglas Luiz, Cancelo, Pedro Porro, Mescino. Total acquisti, 168 milioni. Cessioni, Douglas Luiz, Delph, Mari, Company, Danilo, Manu Garcia, Pedro Porro. Totale, cessioni, 69 milioni. Saldo tra queste cessioni, meno 99 milioni e rientra nel fulpe finanziario di un milione. Che, tra l'altro, come dicevo, per quanto riguarda Sarri, ad esempio, quando si giudica il mercato della società, è un conto, e non significa giudicare quello che farà la squadra in campo. Perché, magari, la società non ha dato di giocatori tipo Sarri, però Sarri fa il miracolo e ti va a vincere sempre così. Questo, ovviamente, ce lo spieghiamo tutti. Ma il mercato resta da 5,5. Quello che ha fatto Sarri sarebbe da 10, ok? A differenza, magari, delle inglesi che, comunque, ripeto, fanno il mercato insieme agli allenatori, evidentemente. In questo mercato il City non ha speso tanto. Informazione del tipo del City? Ederson in porta, Walker o Cancelo. Cancelo, anche lì. Eh, ma Cancelo non ha giocato a quattro partite. Ragazzi, se non si fosse fatto male di Sciglio, Danilo non avrebbe giocato Sabato, ok? Probabilmente non avrebbe giocato nemmeno a Firenze. Quindi, bisogna anche stare calmi, perché è troppo facile poi sparare merda per quelli che sono sempre stati contro Cancelo e sono Yes Man, dicono sì a tutte le cose che fa la società buone o cazzate. Purtroppo, ne abbiamo tanti di Yes Man, e purtroppo, fino a che avremo questi Yes Man, non si andrà da nessuna parte. Ripeto, ci sta la critica. Ieri, ad esempio, ho criticato Amre Can, ma ho criticato anche la società, e penso che è una critica che viene da me, ok? Nei confronti di Amre Can, piuttosto che alla società, insomma, è più credibile rispetto a chi ha sempre attaccato l'altro e difeso sempre la società, ecco. Comunque, vabbè, Walker, Ottamendi, Stones, Zinchenko, poi a centrocampo De Bruyne, Rodri, David Silva e... David Silva a mezz'alano, vabbè. Poi, in attacco, Bernardo Silva, Aguero e Sterling. Allora, la porta è rotta, vabbè. Per quanto mi riguarda, il City... Il City... Cioè, non è che doveva fare chissà cosa. Ha preso Cansello al posto di Danilo, che è un upgrade per il City, e per noi è un downgrade. Sulla carta, sì, sulla carta bisogna dire questo. Anche perché Cansello, per il momento, è riserva. Per forza, è riserva. Ha Walker davanti, è titolarissimo, e però è un upgrade, se noi guardiamo che Cansello è riserva al posto di Danilo. Quindi è un upgrade. Loro si sono presi un nostro titolare, noi abbiamo preso una riserva loro. Bisogna anche ragionare sotto questa ottica. Alla fine, ripeto, il City non doveva fare chissà cosa, il centrocampo è buonissimo, forse come Mediano poteva prendere qualcun altro, solo che Mediani è difficile trovarli adesso e onde evitare di rivoluzionare il gioco, più che altro di avere ancora pazienza, insomma. Comunque il mercato del City, per me, per me, per me, guardando anche gli acquisti, che non sono chissà quali e chissà quanti, però, ripeto, ha ritoccato il terzino con Cansello, Rodri, eh, Rodri ha preso, tra l'altro, cazzo dico, Rodri ha preso. Quindi, sì, per me sono un sette e mezzo per il City. E, ripeto, quest'anno, oltre al Barcellona, come ho detto ieri, come ho detto ieri, la candidata che potrebbe sorprendere un po' tutti, dopo anni e anni e anni di prese per il culo, potrebbe essere proprio il Manchester City, che non dovrebbe essere nemmeno un Champions League, tra l'altro, ma va bene. Questo è il quanto, ragazzi, e quindi i miei voti sono questi, sette al Tottenham, cinque e mezzo al Liverpool e sette e mezzo al Manchester City. Ditemi la vostra, ci vediamo al prossimo video, che sarà quello, per quanto riguarda questa rubrica, quello su Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, sempre e comunque, fino alla fine, Forza di Ventus! Grazie!